Non ci sono parole, ma c'è solo da piangere. Tutta la vita vissuta, le mamme avevano pure 10 genitori, hanno fatto scuola qua, però se n'è andata è tutta in un fumo, va. Non lo so, io... Quando succede un terremoto, succede un ubifragio e cose, raccolgono tutti i soldi per aiutare il paese, per aiutare la popolazione. Se qualcuno ci vuole aiutare per sistemare questa scuola, perché è una comodità, non per noi paesani, ma per tutti i paesi qua vicino. Gli abitanti di Mili San Pietro fanno un appello a tutta la provincia e alle istituzioni. Aiutateci a ricostruire la scuola, dicono tra le lacrime e lo sconcerto di quanto accaduto. 70 anni di storia bruciati in poche ore. Era il futuro dei nostri figli. Quello che temono maggiormente è che non verrà mai più ricostruito l'istituto scolastico nel paese. L'assessore comunale alle manutenzioni Sebastiano Pino tranquillizza gli abitanti, dichiarando di aver trovato la disponibilità dell'assessore regionale all'istruzione su qualche risorsa economica di sommorgenza. Nel frattempo sono state trovate altre alternative per i 40 studenti. Oltre le scuole di Larderia Inferiore e Tre Mestieri, il dirigente comunale Salvatore De Francesco sta valutando con la dirigente scolastica anche altre soluzioni tra Mili San Marco e nello stesso paesino di Mili San Pietro. E intanto continua la stima dei danni, che dai primi esami sembra essere elevatissima. L'incendio è distrutto tutto. Archivi, materiale didattico, arredo scolastico, il fabbricato è totalmente inagibile. In termini economici ammonterebbero a diverse migliaia di euro. I tempi della ricostruzione saranno sicuramente lunghi, ma quello che importa è che la scuola venga riedificata su quelle macerie. Una bravata finita in maniera drammatica, quella fatta dai tre ragazzini ora denunciati a piede libero. Solo per miracolo non è stato coinvolto nessuno, né passanti, né gli stessi giovani che hanno appiccato il fuoco.